Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Scusate, ma tutto a posto? Sì, se mi intervistano qua io gli chiedo sempre una cosa in nero. Però avrai questi soldi per sponsorizzare i lacci, no? Eh, sì. E su un fracco di soldi mi sembra? 50 euro o Paypal. Ma tu sei pazzo, dovrebbero rivedere quando sei bravo. Preciso. Ma sei il migliore, sei. Cazzo sono pazzo. Pazzo però, signore, abbastanza. Mi accontento. Sai il nome di Ama? Forse Amarena. Possiamo farci un tango adesso? No. Ah, beh, me l'aspettavo, dai. Applausi a Fabio Cerenza.